Ha lavorato 25 anni da funzionario di partito, primo impiego con la FIGC, poi con il Partito Democratico di sinistra, quindi con i Democratici di sinistra e infine con il Partito Democratico, in sostanza sempre nello stesso partito che ha solo cambiato nome. Un anno e mezzo fa riceve una telefonata, sei licenziato. Questa in sintesi la storia di Lino De Guido, Tarantino, che è tuttora incredulo per quanto accaduto, perché nell'immediatezza del singolare licenziamento telefonico, incontra insieme i vertici regionali e provinciali del partito che gli dicono di non preoccuparsi perché il problema sarà risolto. Ma il tempo passa inutilmente e De Guido si rivolge ad uno studio legale. Fa causa di lavoro al PD e la vince. Il giudice stabilisce il reintegro al lavoro ed il pagamento degli stipendi arretrati. Ma sono scaduti anche i termini per dar seguito alla sentenza, quindi è partito il decreto ingiuntivo. De Guido, deciso ad andare fino in fondo, non si aspettava questo trattamento proprio da chi nelle piazze predica di diritti dei lavoratori. Ascoltiamolo. È una grande contraddizione perché per un verso c'è il richiamo ai valori, agli ideali, di cui si riempiono la bocca, si sciacquano la bocca. Poi c'è la realtà concreta di una persona, una sola persona che è stata presa e buttata in discarica. Senza alcuna motivazione io quello che chiedevo al gruppo dirigente del PD, all'attuale segretario regionale del Partito Democratico, di essere semplicemente licenziato. Avrei avuto l'opportunità di poter accedere ad una rete di protezione che lentamente mi avrebbe scivolato sempre più giù, invece non hanno fatto questo, mi hanno solo staccato la spina, mandandomi appunto a fondo.